Siamo andati in giro per i paesini intorno e ne abbiamo trovate con le tue richieste un bel numero Buonasera, signorina Desidero ritrovare il batticuore d'amore di un tempo Aiaiai Che non sembra dire? Buonasera Mi chiamo Russo Luigia Luigia, non ce lo senti? Dai baffi! Signorina, buonasera Prima cosa quando pensi Che spiega da C'è brutto come brutto